Salve a tutti e bentornati in questo piccolo tutorial su come accedere alla cartella AppData ovviamente si può accedere direttamente con il tasto Start, il logo di Windows su un tasto della tastiera schiacci il tasto Start più R, R di Roma, tasto Windows più R si aprirà così la schedina Esegui, metti il percento, Shift più il simbolo percento che sta sulla tastiera a me sta sul numero 5, quindi Shift più 5, scrivi AppData percento e fai ok ti porterà così sulla cartella di AppData dove poi potrai vedere tutte le cartelle dei tuoi giochi, documenti e file che ti servono quindi se ti è stato utilissimo questo piccolo tutorial ti consiglio di iscriverti, attivare la campanellina, di lasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!